documento maestro che è successo ma che è successo un piccolo incidente no questo è il segnale della mefide di questo luogo e ma la mefide era brava questo si ha rotto il vetro ma è un segnale ma è un segnale ma la mefide tutto trasforma vedi ha trasformato il quadro che significa che è meglio senza vetro si è meglio senza vetro la mefide lo gradisce senza vetro sì 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 è vero è vero sì così lei ha voluto era povera allora no perché l'immagine non ci è diretta non ci sono riflessi sì infatti quello con il vetro porta riflessi quindi questo quadro non ci metteremo più il vetro maestro ok perfetto questo è il documento la mefide ha parlato ci ha comunicato una cosa importante la mefide canta canta si si Grazie.